e giù sotto c'è la cascatella si dai ci si passa di qua è un po' da stare attenti ma ci si passa dobbiamo andare in su auguri io lì la tento larga dove sono sceso perché secondo me ci si passa quindi c'è dentro solo un sassetto che devi prenderlo giusto e poi andare un po' più lungo perché se vai corto resti lì non è il massimo se vai su di là di lì Luigi se passi sopra qua no perché se gli dai un pochino si no però di lì è più facile anche per chiunque scende non è più facile ancora qua vedete di scivolo un'altra volta ok 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 no aspetta però perché ok 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 Grazie a tutti.